bentornati e benvenuti nel laboratorio dell'aroi sub siamo ormai in pieno inverno quindi la pesca che si fa attualmente la pesca del sottocosta nella schiuma i tiri nella profondità da 0 10 metri e questa nuova collana di video servirà proprio per rispondere alle vostre domande più frequenti abbiamo pensato di fare questa collana di video ne faremo uno ogni 15 giorni quindi seguitici iscrivetevi al canale commentate fateci le vostre domande vostre curiosità i dubbi più frequenti in modo che noi raccogliamo tutte le informazioni e ogni 15 giorni faremo un video che risponderà a un acquisito tecnico di utilizzo di pesca quello che volete in merito a questo mondo che abbiamo inventato e grazie a voi reso famoso in tutto il mondo con i prodotti che la roi sub commercializza i sistemi roi soprattutto quindi fusion 1 fusion k1 fusion k2 fusion k demo 2 fusion k demo 3 e demo 3 ormai abbiamo creato una bella famiglia di sistemi l'esperienza è tanta siamo i leader d'altronde di un mondo che abbiamo inventato da zero e oggi andavo a rispondervi alla prima domanda quella che abbiamo raccolto più spessa che ci fate per iniziare questa nuova collana allora la domanda più frequente è quella di come faccio a sapere se le gomme le ho precaricate al punto giusto quanto devo precaricarle quanto vanno stirate quanto vanno misurate tutto questo tipo di domande allora a questo tipo di domande si risolve si risponde con una soluzione tecnica che vi farò vedere per capire se il vostro arbalete con sistema roi è stato configurato correttamente intanto ve lo faccio vedere mostrandovi il robin hood questo è la novità del 2019 2020 quindi la novità anche di quest'anno ed è proprio una risposta alle vostre richieste di riuscire ad avere ottenere un prodotto che fosse valido così come il top di gamma che è il michelangelo che permette degli allestimenti chiaramente tutti i tipi di allestimenti ma comunque che abbia un prezzo più accessibile e che possa utilizzare un sistema semplice per la pesca prevalente di tutti i giorni quindi questa è stata la risposta a una arbalete molto curato e allestito e ottimizzato per l'utilizzo confusion k1 quindi il sistema più semplice in assoluto dei sistemi roi l'antagonista del monogomma per così dire per cui voi afferrate la gomma la caricate lato impugnatura e sparate come fosse un monogomma proprio la fama dei salsicciotti famosi salsicciotti sistemi roi ha reso possibile il successo di tutti i nostri sistemi perché la semplicità di caricamento unita al rinculo praticamente inesistente e alla potenza molto maggiorata rispetto ai sistemi tradizionali ha creato appunto questa questa famiglia di sistemi e tutto quello che si è voluto insieme alla roi sub andiamo a vedere però la risposta alla vostra domanda come fate a sapere se l'arbalete o che avete trasformato voi o che avete comprato è pretensionato e precaricato in modo giusto o troppo o poco allora per fare questo in realtà non servono misure non servono metri alla mano non servono calcoli non è questa la soluzione molto più semplice tutti i sistemi questa soluzione vale per tutti i sistemi roi sub si verificano quando si effettua il primo caricamento quindi nel caso del sistema fusion 1 e fusion k1 semplicemente nel momento in cui avete caricato i salsicciotti sull'asta chiaramente vi ricordo in acqua perché fuori è pericolosissimo non si fa per cui quando avete caricato i salsicciotti sull'asta del primo caricamento dovete andare a verificare che la gomma lato impugnatura che man mano sarà salita verso la testata deve arrivare come distanza a circa un dito massimo due dita ok dalla testata dove ci sono le pulegge quindi indicativamente questa è la zona dove deve arrivare il sistema con la gomma nel caso di fusion 1 e fusion k1 e fusion k2 dove c'è il nodo legato direttamente sull'asola voi vedrete l'asola che si avvicina quasi a toccare ad avvicinarsi alla testata per gli altri sistemi i sistemi demo fusion k demo che utilizzano il bozzello lo stesso discorso non cambia di nulla ma chiaramente sarà il bozzello a doversi avvicinare fino a uno massimo due dita dalla testata quindi è questa è la verifica che si fa per poter dire che il sistema è stato precaricato in maniera corretta vale per tutti i sistemi lo ripeto per tutti i sistemi roy sub quindi fusion 1 fusion k1 fusion k2 fusion k demo 2 fusion k demo 3 o demo 3 che sia non cambia per i sistemi monocaricamento al primo caricamento per i sistemi con più gomme sempre solo alla prima gomma che andate a caricare quando voi il salsicciotto lo portate sull'asta con le gomme secondarie ancora scariche si fa questa verifica se chiaramente la gomma al bozzello sono più indietro dovete vuol dire che dovete accorciare il filo principale per fare in modo che si avvicini fino a uno massimo due dita diversamente se è troppo contro vuol dire che il filo era troppo era troppo corto però noi già lo diamo tarato per la configurazione che sia questa distanza perché non arrivare contro completamente sulla testata perché nel momento in cui voi andate a caricare i salsicciotti lato in pugnatura avete le mani larghe come posizione quindi poi una volta caricato voi rilasciate le mani e ritorna un po indietro se voi non fate i conti di lasciare un po di spazio di un po di gioco in punta quando andate a caricare vi trovate troppo tirati per poter caricare la gomma sull'asta quindi questo minimo di margine serve proprio per questo motivo qua per permettervi il caricamento agevole ma arrivare a ottimizzare il massimo della potenza che potete esprimere con i sistemi ROI vi raccomando importantissimo tutti i prodotti ROI come sapete li trovate direttamente sul sito roisub.net nella sezione shop e soprattutto questo è fondamentale per voi per i soldi che spendiate bene i prodotti ROI i sistemi ROI non si inventano ve lo ricordo qui c'è dietro una esperienza lunghissima passiamo gli anni mesi giorni con un team intero di atleti tutti i giorni a testare i sistemi ROI quindi non lanciatevi in improvvisazione sconsiglio poi ognuno è giustamente libero però lanciarsi in improvvisazione o peggio ancora andare a cercare soluzioni non consolidate dall'azienda che l'ha inventato e l'ha costruito vuol dire purtroppo a scanso di situazioni che accadono buttare via soldi per poi alla fine ritrovarsi comunque a prendere i prodotti giusti per cui fate se volete fare una trasformazione fatela comunque come si deve con i prodotti giusti il sito direttamente lo shop online si può comprare con le carte prepagate non c'è nessun problema si compila tutto direttamente le spedizioni sono velocissime per cui questa collana di video serviva proprio per darvi pian piano le risposte ad oggi abbiamo risposto a come si precaricano i sistemi ROI ogni 15 giorni faremo un video che risponderà a una vostra domanda vi ricordo iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti commentate diteci le vostre domande le vostre curiosità in modo che noi raccogliamo le informazioni e il prossimo video andremo a risolvere un altro vostro dubbio o curiosità grazie a tutti per averci seguiti e buona serata a tutti